In estate si è parlato a lungo di Alfonso Areola come possibile nuovo numero 1 del Napoli. Di questa ipotesi ha parlato il presidente Aurelio De Laurenti sale Parisi e sì, volevo prenderlo. Ho parlato con il suo agente, Mino Raiola, ma aveva altre idee per lui. Ora sono felice dei nostri tre portieri. Non ho mai avuto tre portieri come Moretto, Ospina e Carnesis. Hanno talento e...